Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo con Mauri, con mio fratello. Stiamo andando a fare una dronata al ponte del diavolo che si trova a Lanzo, nelle valli di Lanzo, qua comunque sempre in Piemonte, no? Qui narra una storia Mauri, una leggenda, la dico anche a loro. Qui i vecchi paesani di una volta, perché questo ponte è stato costruito intorno al 1800 e qualcosa, adesso non mi ricordo, ma poi vi metterò i dettagli sotto in descrizione, i vecchi paesani non riuscivano a fare questo ponte perché li crollava continuamente, hanno chiesto poi aiuto, hanno fatto un patto con il diavolo, che lui si è presentato davanti a loro, ha detto io vi costruisco questo benedetto ponte, benedetto ponte, però il primo che passa sopra questo ponte, la sua anima sarà la mia. Loro hanno accettato, però hanno voluto prenderlo in giro, quando il ponte è stato finito hanno fatto passare un cane, e lui ovviamente, il diavolo, si è infuriato e si dice che ha scagliato i suoi artigli sulle rocce e ha fatto dei buchi, che poi in realtà questi buchi non sono nient'altro che buchi formati dal corso dell'acqua. Comunque adesso ragazzi farò anche un bel video con il drone, così lo potete vedere in tutto il suo splendore. Comunque adesso ragazzi, 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 sulle rocce sui fili quindi non potevo fare chissà che cosa per paura di passare ma per paura di distrarli quindi ho fatto quello che ho potuto con questo è tutto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate un commento un like e noi ci vediamo al prossimo video ciao belli se ti è piaciuto il video iscriviti al canale condividi e lascia un bel like ciao